La metto tutta. Mi date mezzo litro. Vediamo. Quella con la fascetta rossa. Eccola qua. Comunque la panzetta è venuta anche a me. Non vado più in palestra figa. Non c'è più tempo Porco Dio. Sinceramente. Sandro finisco alle sei. Alle cinque e mezza c'è l'officio fino alle sette, sette e mezza. Sinceramente vado in palestra. Tanti vanno alla mattina a presto. La mattina a presto vado io col cani. E la sera a tardi c'è ancora un figlio. E poi sono stanco. E poi ci credo. Su invece. E' il mangiare che devi tirare indietro. No ma non è che mangio tanto. Eh ma. Ma io se sto un po' più tranquillo a mangiare perdo subito due o tre figli. Ti va giù la pancia. Eh non so. Devi limitarti a mangiare. Quello che alla sera ti fanno. Eh. Io la sera per esempio mangio un po' con cazzo. E' la madonna. Ma che giorno mangio? La sera? La sera mangio un po' con me. La sera mangio un po' con me. La sera mangio un po' trafotte di presauro, un pezzo di formaggio, un panino. Un po' con me. Eh ma stiamo in me. Oh stia. Non c'è. No. Ma stia. 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 Ma. che cazzo di cambiarlo? ho 77 anni? un primo eh figa 77 sono nati ragazzi questo qua è un drago oh te ho 77 anni per quello che fa lui è un drago è un canziere è un canziere con la moto lì con il suo panziello adesso qui se dov'è qui oh qualcuno magari vende anche dalla fila ha detto che ancora quello che abbiamo usato li mettiamo già su grazie ah ne lascia qua? grazie mille perché poi dobbiamo rifare il gioco degli incasso ah allora ho fatto una pelle ah 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 però dovreste stare davanti voi no di dietro se no figa non ti filmo a te sandro ea tanto ascolta se mi fermo ti chiamo vabbè se arriva Egip Kigan che la strada non è giù no ma dice appena detto che sei un drago no ma faccio per dire l'emergenza vabbè sì eh vabbè io adesso sono ancora c'è ancora la forma se no c'è c'è mica tanto da dire l'altra volta sono beggiore no non lo metto da me l'ho staccata arrivati al ristoro ecco fatto benzina sandrino sandrino bevi luigi vertigo special e dulci si in punto zio seve il drago delle montagne ore 11 e 40 arrivati al ristoro tempo va bene sci basta che il più è mia anche qui ci sono delle belle ragazze aspetta aspetta eh un bel filmato per tutti i leoni di Bregnano adesso il nonno tira fuori gli artigli ecco il nonno seve con la ma grazie che voglio dire ma non dopo non vedremo neanche il carabino e di infine che sono a cammì oh speriamo che vengono fuori di mica fa oh di mica fare un anno quando hai più piccoli, io e mia moglie andiamo alle 3 metri, sai che c'erano le macchine fotografie che devi mettere il rullino? 34, io l'ho fatto, senza rullino, per tirare fuori il rullino dalla macchina comunque uno, due mi dava lì, c'era anche una in Topless che gli avevo fatto le foto adesso devo cambiare la batteria non lo so da che parte si scende, non penso facciamo tutta la blu, noi facciamo la blu, ok, facciate il giro easy, medio? è alla nostra età, no, no, ma ci mancherebbe, complimenti che siete qua a bordo e la passione, oggi gli ho detto, ma dovevamo essere di più, solo che gli altri sono un po' se piove, non piove, andiamo, andiamo, ascolta, noi andiamo, se venite, se piove, torno a mettere, se bagno, ragazzi, non piove quando eravamo giovani, andavamo noi nelle nostre zone con la neve, adesso c'è paura di due bocce, si bagni? cosa devi fare? no, allora sì, se devi star lì a guardare il tempo, devi guardare il tempo, il traffico è questo, è quello, è quell'altro e con le stelle, è che? cazzo, ma dove l'ho messa con le pappi rite? ancora, i vulcani cazzo vuoi vedere che l'ho lasciata a casa? no, eh, no, eh secondo le palla, come se fosse cos'è, bagno? ah, questa cosa che c'è, necessiti stress 1 ah potensi qua mi fa tutti qui Porco zio! Arrivo, non trovo più le pile della telecamera, si sono scaricate le pile, adesso devo cambiarla. Sì, mi pareva meno, non? Sono un materialista. Quanti anni fa? Non sei anche giovane, come me. Quanti anni fa? 71. Oltre da pure un po' più. Sto proprio qui che dovevo essere qui. Prendiamo. Vedi? Un po' più. C'è un po' più? Pizzaro il taglio. Viene perché c'è un testo molto bene, vieni 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 bene. Vieni bene, vieni bene. Vieni bene, vieni bene, vieni bene, vieni bene. Vieni bene, vieni bene. Vieni bene, vieni bene, vieni bene. Diciamo che il percorso blu è bello, si può abbordarli per i due pietti. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, non andando quasi... C'è qualche principianto e qualcuno che non vada a vittarmi. Allora, io lo sai che a questa ho cominciato ad andare col trieste. Insomma, più o meno, a metà strada. Non lo so, parca dio. Prova, giri. Due anni, quattro anni. Siamo a 2600 metri adesso. Due anni. Ho cominciato due anni fa in primavera. Ho già fatto due mulatria di albenga. Questa, caglio. Ho preso una passione. Allora, io ti dico, l'hai visto il biosegue qua? La dura? Io due lo conosco da una vinta. Pensa a te che ne hai visto una con 70 anni. Con 70 centri anni. E' come ramella. Ramella adesso aveva fatto una gara di ase, cross. Quello che abbiamo visto allora. Con 79. Quello che abbiamo visto la scossa maggiore. Allora, noi andavamo sempre in moto in strada. Vado da strada, si. E mi diceva, dai vieni fare tria. Ah, perché loro andavano anche col tria. Lui è da quando... Lui è da quando... Lui correva e quando era giorno in regolarità. Ciao, ciao, ciao. Dopo ha cominciato a fare tria. Ciao, ciao. E niente. Gli aiuti a salutarti? Ma no. Cazzo, ma Dio, io cazzo. Io cazzo, ma di me era tria. Non mi diceva un cazzo. Vado bene. Poi due anni fa... Io dico, dai, 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 dai. E venio poi a dire, a Pua, a Campetto. Cazzo, a Campetti. Cazzo, a Campetti. Sì, sì, sì. E niente. Allora, cazzo, mi dico adesso. Ciao, ciao. Lui ne ha due di fatti. Ricordami che quella consumata è a destra, eh. Delle tre. Ok. Lui ne ha due di fatti. Due gemelli. Due, due robi così. Caino è a bere. Caino è a bere. Caino è a bere. Questo è a bere. A me ma cazzo caino, no? Cazzo, ho preso una passione che non ti dico... Eh, eh. Fussana strada. Non fanno più neanche con la moto della strada. Io lo facevo... Vent'anni fa io lo facevo. Lui ho lasciato stare per un bel po'. Adesso abbiamo ricominciato. Ma infatti anche ora. Ma è bello. Dovevamo essere di più. Solo che quegli altri si... E' fiove. Ah, no, no, no. A presto. Ma qua. Vi ho detto, ascolta. Noi adesso siamo tutti in quattro. Però non ci conosciamo. Sì, sì. Io sono convinto. Mezzana. Sì, sì. Ciao. Siamo venuti qua in quattro. No, sono qualche amico. Ma... Io ho smesso per questi altri. È la prima monatela che faccio dopo... Eh, ma io. dal 2011 o due. Eh, come ora cazzo... Io ho proprio smesso. 15-15. Adesso abbiamo le spalle che faccio sempre. Io ho proprio la prima. È proprio la prima. Giusto per riprendere un po'. Un po'. No, no. Ma abbiamo fatto un altro mini-cubo con gli altri. Non si può allungare un po' che prima si è affidato. Eh, eh, ma... Eh, ma... Qualche piccola malizia ce l'abbiamo fatto. Ricordiamo un po'. Una volta fatta si mette qua. No, no, no. Non c'è il prezzo di niente. No, no, no. Non c'è il prezzo di niente. No, no. Comunque ancora con i metri eh. Eh, un po' più... Un po' più... Un po' più... Dai, arriviamo anche noi. Vabbè, io ce ne ho 62. Arrivare alla sua età c'è ancora 15 anni. F***a. Ma è la pandemia. Dite che ne si sentite. Esa è che la domanda. Un po' più... Quaro le scopere. Yeah! Non è un po' più tranquillino. Vabbè... Quaro le scopere. Vabbè... Un po' più... Che è un po' più tranquillo.